ciao a tutti bentornati nel canale di studio 72 oggi andremo a vedere come installare metropolitan per element 3d cosa è metropolitan praticamente sono gli edifici che appunto i taggati con element 3d ci permettono di andare a creare questi edifici tridimensionali veramente realistici prima di tutto ciò vi ricordo di iscrivervi al canale mettere mi piace commentare ed ora andiamo a vedere come installare metropolitan una volta scaricato andiamo a cliccarci sopra si aprirà l'installer facciamo doppio clic facciamo aprire si aprirà appunto questo pannello noi andiamo a fare next accetto next qui andremo a inserire la nostra password del nostro mac appunto facciamo ok e lui andrà a installare automaticamente metropolitan una volta finito ci basterà fare finish chiudiamo e andiamo a lanciare il nostro after effect una volta aperto facciamo nuova composizione facciamo ok diamo una nuova tinta unita che chiamiamo element facciamo ok andiamo qui in effetti o in effetti qua andiamo a scegliere appunto video copilot element e lo trasciniamo adesso io vado ad adattare allo schermo adesso andiamo su scene setup e qua di fianco come vedete si dà la cartella metropolitan all'interno troviamo altre tre cartelle allora la prima praticamente sono gli edifici privi di texture praticamente sono solo ed esclusivamente la struttura dell'edificio qualora volessero andarci applicare noi una qualsiasi texture e ce ne sono una decina di modelle più o meno nell'ultima troviamo andiamo eliminare questa nell'ultima troviamo gli edifici andiamo a selezionare luce cinema vedete gli edifici con no antenna cioè privi delle antenne sui tetti ci sono veramente un'infinità di edifici ci sono le strade queste sono le strade insomma è veramente molto completo ci sono già dei setup predefiniti con dei palazzi e questo per quanto riguarda i non antennas cioè praticamente sono tutti gli edifici senza le antenne in metropolitan invece abbiamo gli edifici praticamente gli stessi di prima ma appunto con le antenne questo perché le antenne sono molto complesse sinceramente e per magari questione di rendering o velocità video se uno proprio non interessa l'antenna può semplicemente selezionare quelli senza antenne e velocizzare così di fatto il rendering e la velocità del video una volta selezionato il nostro palazzo andiamo a fare ok e lui ci crea il nostro palazzo ora andiamo a fare una nuova videocamera facciamo ok andiamo a selezionare videocamera e se noi andiamo a ruotare e zoomare il nostro palazzo ovviamente come vedete è fatto veramente molto bene con tutti i particolari c'è anche la pista di atterraggio per l'elicottero insomma questo è quanto per quello che riguarda appunto metropolitano ora come detto anche precedentemente io vi metterò il link per scaricare metropolitano ovviamente come ben sapete è illegale scaricare, crackare eccetera 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 questo è solo un video informativo quindi non mi assumo nessuna responsabilità a riguardo fate voi i vostri conti detto ciò vi faccio vedere questo video del paesaggio in 3d come vedete appunto effettuando metropolitano e sarà il tutorial della prossima volta vi andrò a spiegare nel dettaglio come usare appunto metropolitano come creare i vari palazzi eccetera eccetera non vi anticipo niente quindi per non perdervi il prossimo tutorial vi rinnovo appunto ad iscrivervi al canale mettere mi piace al video commentate per qualsiasi cosa e ci vediamo al prossimo tutorial ciao a tutti ciao